Sarà affidato a un protocollo di intesa tra la prefettura messinese e quella regina la soluzione del problema dell'attraversamento del centro città da parte dei tir nei comuni di Messina, Reggio Calabria e Villa San Giovanni. Le due prefetture provvederanno infatti nei prossimi giorni a stilare un protocollo che avrà come obiettivi prioritari l'azzeramento dello sbarco dei tir nella Rada San Francesco e la regolazione delle procedure di imbarco a Villa San Giovanni, finalizzata ad evitare lunghe code che creino ingerenza al traffico locale dei tir, tenendo conto che si dovrà garantire un numero di corso adeguato anche in funzione delle rotte previste per il raggiungimento dei vari porti. A deciderlo un tavolo tecnico tenutosi ieri alla prefettura di Reggio Calabria, un tavolo cui, oltre all'assessore alla mobilità urbana e trasporti Gaetano Cacciola, hanno partecipato i rappresentanti delle prefetture di Messina e Reggio, delle capitenerie di Porto, delle autorità portuali dei comuni di Messina, Reggio Calabria e Villa San Giovanni e delle società di navigazione Caronte, Meridiano e Blue Ferris. Una riunione nel corso della quale sono state evidenziate tutte le questioni inerenti agli attraversamenti dei tir nei centri cittadini nelle condizioni di normale funzionamento degli approdi di tre mestieri ed in condizioni di traffico regolare. Durante l'incontro sono state prospettate anche soluzioni di medio-lungo termine che prevedono la realizzazione di nuove infrastrutture sulla sponda reggina.